Le scuole medie statali di San Nicola Arcella chiudono l'anno scolastico con lo spettacolo di fine anno messo in piedi dai ragazzi di tutte le classi. Un anno proficuo per gli studenti di San Nicola Arcella che hanno suddiviso il tempo tra lo studio sui banchi di scuola e le attività all'aria aperta. Un anno molto intenso e impegnativo nel corso del quale sono stati realizzati tantissimi progetti con successo. Alcuni di questi hanno avuto l'onore e il privilegio di poterli seguire da vicino con grande interesse e di maniera davvero partecipata. Quest'anno tante proposte sono giunte anche verso la scuola non solo dall'amministrazione comunale ma anche dalle associazioni. E' importante che intorno agli istituti scolastici ruotino soggetti istituzionali e nonne perché ognuno può dare a seconda delle proprie competenze un contributo per la crescita formativa dei ragazzi. Quella di questa mattina inoltre è stata anche un'occasione per parlare del progetto fuori dal guscio ideato e portato avanti dall'associazione Amici di San Nicola Arcella. Ai ragazzi infatti è stato consegnato un attestato di partecipazione in quanto durante l'anno sono state diverse le attività portate avanti dall'associazione durante questo progetto. Il filo conduttore del programma è stato quello di avvicinare i ragazzi di San Nicola Arcella al territorio visto in tutte le sue sfaccettature. Si è presentato come un progetto innovativo distante dagli schemi tradizionali della didattica e che ha avuto come obiettivo principale quello di sviluppare per gradine ai ragazzi il senso di appartenenza, amore e cure per il proprio territorio. I ragazzi hanno mostrato vivo interesse, viva partecipazione e si sono anche divertiti. Sono stati messaggi e tematiche molto incisive, noi speriamo che restino nella loro coscienza e comunque abbiamo anche la possibilità, cioè avremmo la possibilità se ce lo consentono l'anno 21 di rifare gli incontri con i ragazzi della prima e della seconda. Nel corso della mattinata inoltre c'è stata anche l'occasione per ricordare l'ingegnere Francesco Annunziata, presidente dell'associazione Amici di San Nicola Arcella, scomparso qualche giorno fa. È sempre stato vicino al mondo della scuola con tantissimi progetti, quindi sempre molto propositivo. Lui negli anni ha ricoperto un grande ruolo all'interno dell'associazione, ci è sempre sortato a salvaguardare, a preservare quanto più possibile San Nicola che lui tanto amava.